Buongiorno a tutti voi, mi dispiace che non possa essere presente al vostro convegno ma più che volentieri cerco di rispondere alle domande che Ezio Delfino mi ha fatto avere. Qual è il punto fondamentale, il punto decisivo per un dirigente scolastico oggi? Prima di tutto bisogna tener conto del fatto che fare oggi il dirigente scolastico è un lavoro molto arduo, molto difficile e di grandissima complessità. Per tutti i cambiamenti dei quali avete anche parlato durante questo convegno, per le ingombenze burocratiche e amministrative, per le difficoltà sempre più evidenti che si presentano a livello sociale e culturale. Allora secondo me il punto più importante è di non perdere mai di vista in mezzo a tutte queste difficoltà l'educazione dei ragazzi come punto fondamentale. Questo può sembrare una cosa semplice ma solo per chi non conosce il funzionamento di una scuola oggi. Perché c'è il rischio di una certa autoreferenzialità? Ma non perché qualcuno la cerca ma per le mille ingombenze, per i mille problemi che voi vivete ogni giorno questo è sempre in agguato. Ma dal mio punto di vista per l'esperienza che ho e per le cose che vedo vorrei aggiungere un altro punto che educare oggi ragazzi non è qualcosa di ripetitivo. Quasi tutti gli anni si presentano nuove generazioni con nuove difficoltà, con nuove problematiche, anche con nuove opportunità. Allora bisogna sempre riguardare, ricomprendere i ragazzi nelle loro esigenze per poter dare risposte sempre più adeguate. E quindi solo già da questo punto di vista si impone la necessità di una maggiore autonomia delle scuole, proprio dal punto di vista educativo. Le situazioni locali, territoriali sono tutte diverse, il contesto lavorativo è diverso e anche gli assetti culturali cambiano di regione in regione, di territorio in territorio. Pensare che oggi sia possibile dare risposte stereotipate, uniforme a queste diversità è irragionevole e non è sostenibile se uno vuole veramente bene alle future generazioni. Cercare una maggiore autonomia non è assolutamente una cosa ideologica, è una cosa che si basa sulla realtà delle generazioni nuove che incontriamo. e quindi il mio augurio, il mio auspicio è che voi, nonostante tutte le mille cose che avete a che fare tutti i giorni, di non cedere su questo punto, di creare consensi fra il corpo docenti, anche con i genitori, a rendere le scuole delle comunità educative dove al centro sta la domanda qual è il bene dei ragazzi, non in modo generico ma di quei ragazzi che vediamo qua, nel nostro mondo, nel nostro località, nel nostro territorio, in questa scuola, in modo tale che le risposte possono essere espresse con la maggior passione educativa possibile e quindi anche con la maggiore efficacia possibile. Questo è un lavoro non semplice, ma questa è anche la ragione per la quale un'associazione come Diesel è importantissima. Perché le associazioni sono dei luoghi di confronto, di condivisione, dove uno porta le sue esperienze, porta le sue domande. Un'associazione deve essere un luogo dove uno non deve avere paura di porre anche problemi, anzi, più uno ha il coraggio e l'audacia di portare le problematiche che vede, più aiuta tutti a crescere. Perché guardando un problema si scoprono anche le opportunità. Un'associazione non deve essere un luogo dove noi reciprocamente ci sosteniamo in uno status quo. Deve essere un luogo di sviluppo provocato dalle problematiche che si presentano. E le best practice, la condivisione delle esperienze positive, diventa interessante quando le persone pongono delle domande. Perché non è anche detto che un'esperienza particolarmente interessante venga già recepita come interessante. Diventa interessante se riconosco che ho delle domande, ho dei problemi. E la condivisione non vuol dire che per forza andiamo tutti d'accordo, ma vuol dire che cerchiamo di guardare insieme quali sono i problemi che si pongono, quali sono possibili soluzioni. L'uniformità non è mai uno scopo. La diversità, la pluralità fa parte di qualsiasi realità umana, sociale, quindi anche di un mondo scolastico. Anzi, l'autonomia vuole favorire questa diversità e questa pluralità. Ma la condivisione permette un confronto, un paragone continuo per lasciarsi anche sfidare se la risposta che cerco di dare è quella migliore, oppure se ci sono anche suggerimenti che mi conviene cogliere. Quindi una vita associativa, come l'avete sperimentata in questi tre giorni a Torino, è arichente. È una continua provocazione, ma anche una grande soddisfazione poter far parte di un luogo dove io mi sento appoggiato nel desiderio di sviluppare qualcosa di nuovo, dove posso vedere altri che rischiano, altri che intraprendono strade nuove e mi sostengono anche il rischio che io corro. Una vita associativa sostiene e sfida al contempo e questo è una cosa che col tempo si trasmetterà, così penso, anche ai ragazzi che frequentano le sue scuole. Si vedono un corpo docente che cerca sempre di migliorare, di cambiare, di trovare nuove risposte, nuove soluzioni, che è vivo, che è intraprendente, che è interessato, che è appassionato, in qualche modo questo creerà anche un clima dentro le scuole diverso che diventa anche più interessante per i ragazzi e le provoca anche loro a intraprendere strade nuove, perché ogni scuola ha un suo clima e questo clima incide molto sulla vita, sulla percezione dei ragazzi. Io mi auguro che le associazioni nostre siano dei luoghi dove la passione educativa venga sostenuta e me lo auguro tra l'altro anche per la CIDUA in quanto tale, perché anche imprenditori, manager, professionisti oggi hanno un ruolo educativo, perché non possono assentarsi dal fatto che i giovani li guardano di come lavorano, del perché lavorano, di come lavorano insieme e che tutto questo influisce sulla vita dei giovani. Io penso che dal punto di vista del metodo, un'associazione come DISAL deve essere basata prima di tutto sul confronto, sul paragone, da due punti di vista. Il primo riguarda la modalità con la quale un dirigente scolastica svolge oggi la sua funzione, come svolge per esempio le attività organizzative e amministrative, quale tempo dedica, come si organizza, che modalità ha di confrontarsi con i suoi docenti, di guidare il corpo docenti, quali sono le modalità con la quale lui si rapporta anche con le famiglie, come gestisce la parte amministrativa di una scuola. Quindi tutti gli aspetti che riguardano la sua funzione primaria. E poi un secondo momento sarebbe quello di guardare bene quali sono gli impatti che hanno le varie modalità didattiche ed educative sulla vita dei ragazzi. Perché questo confronto è importante per evitare che diventano mode, diverse modalità didattiche, proposte educative, perché adesso ci sono poi tantissime proposte, modelli didattici ed educativi che non vengono valutate veramente. Ma la valutazione non può essere altra se non quella di guardare come questo incide, come viene recepito ai ragazzi e come questo migliora il nostro apprendimento, la reeducazione e le loro certezze di cui hanno bisogno per affrontare anche loro i grandi cambiamenti che li aspettano. A questo punto mi permette di aggiungere un'osservazione che mi sta molto a cuore. Il World Economic Forum ha sottolineato che 65% dei ragazzi che frequentano oggi le nostre scuole faranno un lavoro che oggi non esiste. Questo vuol dire che i nostri ragazzi devono affrontare grandi cambiamenti. Perciò hanno bisogno di due cose importanti. La prima di certezze che gli permettono di affrontare questi cambiamenti, quindi anche una certa autostima che non cominciano a andare in crisi di fronte a ciò che gli viene chiesto. E poi la seconda questione è di essere capace di imparare sempre. Questo non è così scontato che una persona è in grado di concepire la propria vita come un continuo imparare, che questo può essere un bene e non solo uno squilibrio continuo, va comunicato in un modo adeguato, altrimenti uno cerca sempre di appoggiarsi su quello che sa già e non sviluppare criteri, anche criteri di valutazione, per affrontare tutto ciò che gli viene proposto. E questa parte didattica ha bisogno di essere ancora sviluppata. Ed è importante svilupparla senza cadere nella trappola della prima moda che si presenta. E quindi di nuovo valutare bene gli impatti educativi, soprattutto educativi, di ciò che viene proposto come modelli in termini didattici educativi è molto importante. E secondo me un dirigente scolastico ha un ruolo importante in questa valutazione, perché deve continuamente sfidare il corpo docente a evitare di seguire le mode e a valutare e verificare ciò che viene proposto a questo livello. Disala ha da sempre dialogato con le altre associazioni, ha dialogato anche approfonditamente con la pubblica amministrazione. Io penso che questo sia un grande valore, perché il dialogo è sempre qualcosa che rafforza la propria identità, sprona la propria identità, ci fa scoprire anche risorse e riserve che non pensavamo di avere. Io penso solo al dialogo che è nato sulla legge buono scuola prima e dopo, ha costretto tantissime associazioni a farsi la domanda ma noi che cosa vogliamo veramente per i nostri ragazzi? Che idea di scuola abbiamo? Cioè questi dialogo fanno sempre uscire dal dare per scontato cose che per scontato non sono per niente. E quindi io penso che come la persona cresce nel dialogo, anche un'associazione cresce nel dialogo. Prende più coscienza del suo compito, prende più coscienza del suo scopo, prende più coscienza della propria identità e quindi prende più coscienza del valore che può portare. E Diesel sta portando un grandissimo valore. Perché con grande professionalità e con grande passione lavora sui temi che sono veramente importanti per le future generazioni. Non si perde nei meandri delle banalità o delle autoreferenzialità al quale tanto mondo scolastico in questo momento è intrappolato. È un'associazione aperta che pone le domande fondamentali e essenziali e da quindi a chi appartiene a questa associazione la possibilità di affrontarli con libertà ma anche con grande responsabilità. Associazioni così sono un grande valore anche per la vita sociale di un paese, per la società civile, perché dimostrano che la politica ha un grande valore, ma che la prima questione è una società civile viva, intraprendente, libera e responsabile. Vi ringrazio quindi tantissimo per il lavoro che state facendo, che è veramente esemplare anche per le altre associazioni nostre della Compagnia delle Opere. Vi auguro di poter andare avanti con la vostra passione, con la vostra dedizione, ad aiutare le future generazioni ad affrontare situazioni che sicuramente non sono facili da affrontare ma che potrebbe diventare una grande svolta per tutti. Grazie.